Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio X sulla fiducia nel governo. La domanda posta è quanta fiducia ha nel governo Meloni. Chi ha fiducia è la somma tra chi risponde molta, 5,9% abbastanza 28,4%. Quindi la fiducia totale è 34%. Mentre chi ha poca fiducia sarebbe il 38,8%, chi non ha nessuna fiducia sarebbe il 26,9%. Vediamo che questo, secondo XE, è il livello, è il momento più basso della fiducia nel governo Meloni al 34%, quindi partito dal 50% e sceso fino al 34%. Grazie a tutti e arrivederci a presto.